Qui comincia il quartiere degli ebrei, il quartiere ebreo, il vecchio storico quartiere ebreo. Come si chiama la via che la percorre tutta? Via dell'inferno, capito? Dobbiamo attraversare via dell'inferno, che è un caso più unico che era solo a Bologna, perché qui sono gli ebrei, qui è tutta la zona di ebrei. Ehi, guarda, legno, 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 legno. Mamore, guarda che stretta via. Queste vecchinezze a Bologna, vecchineria, vecchineria, e i macchini passano. Il medioevo non era così. Non c'era via dell'inferno nel medioevo. L'hanno trasformato così nel secondo novecento. Dopo la seconda guerra mondiale. Tutti muri, sporcati. Andiamo a destra? Sì, tu ricordi che è una strada che non abbiamo attraversato, che abbiamo deciso di andare da alto? Allora, la macchina, sono sicura che questa sarà la struttura. Sarà, sarà. Non capire. No, non è vero. Ehi, guarda, che torre. Ehi, altra torre. Forse campanella. Mi sembra questa campanella. La città fantasma. Ma che fantasma brutta, brutta, brutta. Brutta, questa città fantasma brutta. E aspetta, non credi? Forse mancano? No. No? Non credo, guarda. Ok. Guarda, guarda, questo è bello per te. Ma ora, fa così. Questa zona universale. Molto immobiliare. Non scritture, scritture. Fu, fu, fu. Chi fa scrittura non deve vivere qui. Guarda. Senta scrittura. E poi si uscita lo chiede, perché siamo come un po' struttati. Ma sì, ma loro devono stare fuori. Allora vengono qui. Altrattare e basta. Per astigliare. Così buttare loro. Abbandonare. Sistemare. Amore. Andiamo verso la macchina. Eh, guarda che bello. Guarda che bel portici. E' il portici. E' il portici. Bellissimo. Andiamoci. Andiamoci. molto bello il palazzo avanti ristoratore allora allora secondo noi non abbiamo speso nulla, non abbiamo mangiato bene guarda che bel palazzo amore questo è il teatro il teatro per Pavarot andiamo al teatro per Pavarot guarda che stradina che via perché loro in rete? perché loro in rete? però loro fanno come sergine molto pazionale no, loro fanno pranzetta si si guarda loro mangiano albomater albomater studio room palazzo panico salve salve biblioteca amore biblioteca? biblioteca e anche questo è un bel palazzo guarda anche questo bel palazzo il nostro canale chi 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 Foo-touch! 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 Andiamo avanti! Ragazzi, avanti! Allora! Tutto, tutto disegnato! Guarda che belle fenestre! Che ho scritto? Allora! Studiare, frequentare, visitare... E ora non si può fare nulla! Mmm! Ma bello! Buongiorno! Grazie! Non si può fare nulla! Non si può fare nulla! Non si può fare nulla! Non ho capito! Vai a destra! Non si può fare nulla! 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 E poi voglio vedere il futuro che andrà a piedi all'università! Certo! Già non li fanno andare a scuola Più tutti se li fanno andare all'università Cioè, una massa di ignoranti Ci sarà fra dieci anni che... Voglio vedere che cazzo faranno l'università! Mamma, e dopo non vanno... Il governo! Ah, si! Immagini! Come sarà il governo! E poi andranno al governo anche! Oltretutto! Guarda che posto c'è! Andiamoci! Andiamo! Scusate! Adesso non possiamo scrivere due parole! Ciao!